Sicuramente l'avevamo già detto, un avversario che cercava la rivalza, una partita fatta di tanti episodi, come giudica questa gara? Qual è la sua analisi della partita? Difficile sicuramente commentare la prestazione dei ragazzi dopo che 30 secondi viene segnato un rigore, quindi cambia tutta la preparazione della partita che avevamo fatto. Da lì in poi ovviamente siamo diventati troppo frenetici, abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico, siamo un po' disuniti, insomma non abbiamo fatto bene. Secondo tempo secondo me siamo entrati colpiglio giusto, infatti ne è scaturito il rigore su cui abbiamo accorciato le distanze, poi un altro episodio penso a molto dubbio ha ricambiato la partita. Poi ancora abbiamo fatto tanti errori tecnici e quindi comunque è una sconfitta meritata e complimenti all'Udinese. Prossima partita sicuramente un avversario anche difficile, come preparerà la gara dal punto di vista mentale per la prossima giornata? Noi dobbiamo essere lucidi in questi momenti in cui si perdono partite, i ragazzi sanno che sarà un campionato lungo e difficile, il nostro obiettivo non cambia, è la salvezza. Quindi sappiamo che ci sarà da soffrire, l'Inter è una grande squadra, la conosciamo, però da domani intanto andremo a correggere quello che non è andato bene oggi e poi penseremo a preparare bene, come tutte le settimane, questa partita.